Joan Walder è direttore di Lignus, parteciperà a SAIE 2013. In che modo parteciperete e che cosa volete far vedere? Chi verrà a trovarvi e chi verrà a visitare il SAIE? Quali sono le novità del settore e su che cosa puntate? Lignus è l'associazione nazionale italiana sulle case prefabbricate in legno e perciò faremo vedere tutte le nuove tecnologie che in questi ultimi anni sono state assolutamente riviste e hanno nuove caratteristiche. Presenteremo le buone pratiche del costruire e la possibilità di costruire delle case con grandissima sicurezza e ad alta efficienza energetica. La nostra piazza, la piazza dell'abitare domani, così l'abbiamo battezzata, darà la possibilità di vedere in concreto tutte le soluzioni più importanti. Praticamente è da toccare con mano perché ci saranno dei laboratori dove le persone vedranno gli applicativi, vedranno quali sono i punti di forza delle varie tecnologie, vedranno anche come una volta costruita una casa si può valutare la qualità del costruito con delle prove termografiche, con delle prove acustiche, perciò è tutto molto concreto, è da toccare con mano in verità. L'idea di una casa di legno è un'idea molto antica, in realtà quanta ricerca, quanta tecnologia e quanto impegno concreto c'è nel portare ad oggi una struttura di questo tipo alla visibilità di tutti. Allora se guardiamo un po' al passato, questo materiale è il materiale più antico di costruzione che si è rinnovato proprio negli ultimi anni, è entrato un po' in dimenticatoio negli ultimi 50-60 anni, infatti in Italia non è più stato neanche insegnato alle università. Ma se guardiamo ai mercati nordici, dove si guarda già da tempo all'efficienza energetica, alla sostenibilità dei materiali e anche alla buona qualità del costruire, lì di prodotti tipo la casa in legno domina il mercato. Abbiamo il nord che è con l'80% di quota di mercato di casa in legno. Dico che per l'Italia questo è un prodotto importante, dà la possibilità di costruire, soprattutto in una zona così sismica, in un certo senso come è quasi tutta l'Italia, delle case sicure, come detto ad alta efficienza energetica, risponde ai chiteri che una persona oggi pone, ai quesiti che una persona pone per avere una casa del futuro. Quella di avere una casa sicura, che abbia valore nel tempo, che non consumi niente, anzi siamo addirittura in grado di produrre delle strutture che generano energia, perciò che sono delle case attive, riempiono i portafogli o non lo svuotano. E ovviamente di avere delle certezze nei tempi e nella qualità del costruito.